Buonasera, buonasera telespettatori e ben ritrovati a Telestagioni, la tv che ti ama e si prende cura di te. Quest'oggi abbiamo sul panitesto musicale un ospite d'eccezione, l'inimmaginabile, il famosissimo Fadi! E se non è più abbastanza dirti, forse non so, ci proverò, ti voglio bene. Lo sguardo di un amore, un accordo in minore, un consiglio, un viaggio e solo uno stato mentale. E se fa un po' freddo, è come quando arriva dicembre, è solo un po' solo. Quando arriva dicembre, è solo un po' solo. È possibile, emozionarsi ancora, davanti al mare, davanti al cielo, davanti a uno specchio, ti riconosci ora. La vita è surreale come l'inverno, graffia le mani, sai com'è, sei sempre te, mentre passa il tempo. E' come quando arriva dicembre, è solo un po' solo. Sono come un più ventiera, un cielo che si rasserena, un ricordo di te che non fa più via. Perché il panorama non dà risposte, ma stasera, questa sera, se mi cerchi sono qui. E se ho freddo, è come quando arriva dicembre, nel suono, nel ricordo. Quando arriva dicembre, è solo un po' solo. Quando arriva dicembre, è solo un po' solo.